Crutch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale DampaTragby. Mercoledì e quindi da 0 a 10, il pagellone della settimana. Iniziamo subito. Allora, 0, vabbè, 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 0, dico sempre tondo tondo, ma realmente lo 0 è ovale, visto che siamo... cos'è ovale? No, non è nemmeno ovale. Chi mi dice nei commenti la forma geometrica dello 0? Cos'è un ovaloide? Un qualcosa del genere? Comunque, insomma, sicuramente non è un tondo. Comunque, uno 0, grande, 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 per... basta, non ne possiamo più il campionato inglese con le sue tiritere. La settimana scorsa avevamo dato, proprio qui nel pagellone della settimana, era uscita la notizia pochi minuti prima, appunto la news, che i WASPs erano finiti in amministrazione controllata. In settimana sono successe un sacco di cose, ma la più brutta, io direi, è quella che è avvenuta ieri. Cioè, ieri hanno detto che non solo i WASPs finiscono in amministrazione controllata e quindi, un po' come i WASPs, vengono eventualmente retrocessi, eccetera, eccetera. No, no, rischiano proprio di sparire, sparire, sparire il marchio, perché in amministrazione controllata non ci era finito solo la gestione della squadra sportiva, ma proprio la società a cui facevano capo i WASPs, quindi, insomma, più di 160 persone licenziate, ma soprattutto una società, un club storico, storicissimo, del rugby mondiale che rischia veramente di sparire. Non so cosa dire, veramente, ogni parola è superflua. Zero, zero a tutta la vicenda. In questo zero probabilmente le colpe sono un po' da distribuire in parti uguali a tutte le parti interessate, ovviamente a tutti, tranne che ai giocatori ho sentito attaccare in settimana addirittura i giocatori, ecco, questo non ha proprio senso. Zero, zero ai WASPs. Uno, uno alla sfiga incredibile che ci porta via dal, ovviamente per fortuna, assolutamente dai campi di rugby, però quella che oggi come oggi è una tra le migliori giocatrici di rugby del mondo, Laure Sansus. Laure Sansus, nominata la piccola Dupont, chi guarda un po' di rugby, non solo femminile, di rugby in genere, la dovrebbe conoscere, l'abbiamo vista anche contro l'Italia, l'abbiamo vista nelle sei nazioni. Insomma, veramente una piccola replica, se così si può dire, con le sue specificità. Magari non gli piacerebbe essere definita una piccola replica di Antoine Dupont, ma veramente una giocatrice bellissima, spettacolare, che aveva deciso di lasciare il rugby giocato dopo la fine della Coppa del Mondo, anche in età relativamente giovane, si infortunia, si infortunia nella sfida con l'Inghilterra, la intensissima, ecco mi viene da dire bellissima, ma forse più intensissima sfida del Le Crunch, Inghilterra-Francia, deve uscire e purtroppo, quindi a meno di clamorosi ripensamenti, quei venti minuti saranno stati gli ultimi venti minuti della carriera di Lord Sansus. Ecco, lo zero era prenotato dal discorso inglese, però se no sarebbe stato questo uno zero, un meno zero, un, non so, male, male, peccato, 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 avremmo voluto vederla magari in una finale o in una semifinale, esprimere al meglio il suo potenziale e dire così, au revoir al rugby mondiale, invece, purtroppo, ci lascia con un infortunio, un pianto di dolore e un infortunio che veramente non ci voleva. Due, due, allora due, lo dico con un mezzo sorriso, non ci sarebbe niente da ridere, ma due all'Eggate di Cardiff, che cos'è l'Eggate? Non so se qualcuno ha seguito, ma un paio di settimane fa era venuta fuori la notizia che alcuni giocatori del Cardiff, dopo una partita di UFC, avevano combinato un macello in un pub, sono venuti fuori questa settimana i dettagli e diciamo che i dettagli sono poco edificanti. Insomma, questi giocatori prima hanno fatto festa, poi, essendo che avevano eccesso un po' troppo nei festeggiamenti, erano stati cacciati dal pub e allora decidono di tornare al pub a tirare delle uova sulla facciata e sulle finestre del pub. Insomma, due, due. Tre, tre, allora tre, voglio fare un discorso, tre all'approssimazione con la quale in alcuni casi viene trattata la Coppa del Mondo Femminile. Fatemi spiegare meglio. In questi giorni stanno uscendo tanti articoli, stanno uscendo, ci sono telecronache, c'è Sky che si sta occupando della Coppa del Mondo Femminile, c'è la Rai, insomma. Il rugby femminile probabilmente, come normale che sia, non è mai stato così tanto sotto i riflettori, anche perché le nostre ragazze, stanno sicuramente ben figurando. Bellissima la vittoria con gli Stati Uniti, combattuta la partita con il Canada, insomma. C'è molto hype, c'è molto hype. E questo però mette alla luce anche una mancanza di conoscenza, nemmeno nel profondo, ma proprio nel concreto, nell'oggetto di quello di cui si sta parlando. Mi è capitato di leggere articoli molto banali in settimana, articoli, adesso senza andare nello specifico, ma articoli imprecisi, imprecisi nel fornire dei dati che sarebbe semplicissimo andarsi a cercare, imprecisi anche addirittura nei numeri, dove basterebbe una calcolatrice per fare uno più uno. Mi vengono in mente, ad esempio, tutti gli articoli che sono stati pubblicati sul fatto che la sfida col Giappone sarebbe una sfida da dentro fuori per andare ai quarti di finale, così non è. L'Italia è praticamente già qualificata ai quarti di finale, a parte dei disastri e dei cataclismi incredibili, ma basterebbe prendere una calcolatrice e fare due calcoli per capirlo, prima di scrivere un articolo. Addirittura, addirittura, vi dirò di più, domani ne parleremo con Lorenzo, all'Italia potrebbe anche convenire perderla quella partita col Giappone, perché probabilmente le permetterebbe di non incontrare la Francia. Però, insomma, tutti i discorsi che se uno conosce, se uno si interessa un po' della cosa, magari riesce ad arrivarci. Se uno invece lo fa solo perché in questo momento bisogna occuparsi di rugby femminile, bene, ben venga, però, insomma, resti appunto nel campo dell'approssimazione. Altro esempio, la telecronaca di Sky, mi spiace dirlo, ma si vede l'impegno, si vede veramente l'impegno che ci ha messo Sky per seguire la Coppa del Mondo, tre telecronisti, però, per esempio, Inghilterra-Francia, tre telecronisti, Moreno Molla, De Rossi, Erika Morri, se non sbaglio, a fare da accompagnamento. Avviene l'infortunio di l'Orsansus e praticamente non si rendono nemmeno conto che ci sarebbero mille cose che si potevano raccontare attorno a quel momento. Che si stava parlando di una delle giocatrici più forti del mondo, che lei aveva dichiarato che si sarebbe ritirata dopo la fine della Coppa del Mondo, ma soprattutto che entrava la Bordeaux e sono andati avanti mezz'ora a parlare sul fatto che la Bordeaux fosse o non fosse all'altezza. Però, se tu sei un giornalista, dai, non puoi non raccontare la storia che la Saint-Suisse e la Bordeaux sono compagne, che sono rivali in campo per giocarsi quel posto e quella maglia. Nel momento in cui entra la Bordeaux guarda con degli occhi tra il preoccupato, l'ansioso della compagna di vita e invece la grinta che vuole mettere perché sta entrando per affrontare l'Inghilterra. Sono cose che ovviamente, se non le conosci, ti sfuggono. E allora, qual è il problema? Il problema è che, spesso e volentieri, ma questo non avviene solo per il rugby femminile, avviene in generale nel rugby. L'approccio è, ah, bene, adesso devo parlare di, non lo so, di Cardiff. E allora, avanti, a studiare cose Cardiff, perché ovviamente, non avendo una reale conoscenza di quell'argomento lì, fai fatica. Fai fatica ad averlo interiorizzato, ad averlo nelle tue corde e quindi anche a raccontare meglio, meglio, quello che c'è tra le righe. Invece, ho notato che già si fa fatica a raccontare quello che c'è sulle righe. Figuriamoci a quello che c'è tra le righe. Con questo, non voglio assolutamente fare un jacuzzi a nessuno, ma voglio far notare di come, di alcune cose, ci si potrebbe occupare più spesso, con più passione, in maniera che, quando quelle cose di nicchia diventano poi mainstream, adesso mainstream, su rugby femminile magari è una parola un po' grossa, ma diventano più ad ampio raggio, non ti fai trovare impreparato. quattro. Quattro lo voglio dare al... Allora, lo voglio dare a un giocatore giovane, un giocatore che io adoro e anche qui voglio fare una parentesi. I giocatori giovani ci sono due maniere di trattarli. Uno, bene, lasciamoli stare, non mettiamoli in pressione, quindi non ne parliamo mai né nel bene né nel male. Può essere una maniera. Però io non credo che i comunicatori, i creatori di contenuto, il loro obiettivo, il loro goal, insomma, la loro funzione sia quello di far passare sotto traccia delle prestazioni perché bisogna lasciarli crescere. Al massimo, quello sarà il compito dell'allenatore, il compito degli agenti, il compito dei compagni di squadra. Invece noi, comunicatori, creatori di contenuti, io credo che sia bene parlarne. Parlarne, ecco, in maniera onesta intellettualmente. E allora, onesta intellettuale significa che come abbiamo premiato, abbiamo messo sugli aldari Luca Rizzoli un paio di settimane fa quando esordisce nello URC, addirittura io l'ho nominato, ho esagerato un po', l'ho nominato come il numero uno nelle prestazioni dei piloni sinistri mondiali di quella settimana lì quando ci ha regalato quel fantastico 50-22. Questa settimana lasciatemi dare un quattro. Lasciatemi dare un quattro perché aveva un'opportunità, un'opportunità importante che secondo me non si è giocato come doveva giocarsi. Si fa espellere in un momento importantissimo per le zebre dove prima va a fare un doppio fallo in una molle, tra l'altro davanti al giudice di linea e poi, come se non bastasse, visto che non l'hanno ammonito lì, va a fare un placaggio ritardatissimo senza l'uso del braccio davanti all'arbitro e allora lì sì che si becca il cartellino giallo. Da un ragazzo di 19 anni, in quel momento lì non vorresti avere queste controprestazioni. Però, ripeto, non era Dio quando entra in campo e ti fa quel 50-22 e comunque fa una prestazione bellissima e sicuramente non è così, non è da scartare, non è una schiappa quando invece perde la testa magari in una situazione. noi lo sosteniamo al massimo, sapete che è uno dei miei giocatori preferiti, però sottolineiamo, sottolineiamo anche le prestazioni negative. Quindi questa settimana, caro Luca, mi spiace, ti prendi un quadro. 5-5 per tornare alle prestazioni delle franchigie, 5 alle due franchigie. A entrambe, per ragioni diverse che adesso non sto qui a sottolineare troppo, però insomma Treviso fa un primo tempo, fa dei bei primi 30 minuti, solida in difesa, però poi insomma mettici anche l'infortunio di Padovani, l'ingresso di alcuni giocatori come ad esempio il giovane Alacca che probabilmente non era all'altezza di quella situazione a proposito di giovani. Mettici un Edimburgo che con l'andare della partita dà fuoco alle polveri e Treviso fuori nel triangolo si trovava in reale grandissima difficoltà. Mettici che dopo un po' difendi, 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 finisce anche la benzina, insomma, Treviso alla fine si becca nove mete. Così come il 5 se lo divide con le zebre che anche loro con gli Scarlet avevano quella che tanti pensavano fosse la prima partita accessibile, seppur molto complicata perché in trasferta in Galles, eccetera, eccetera, però sicuramente rispetto alle prime quattro di campionato era la più accessibile e invece gli Scarlet's cedono probabilmente sotto il peso della responsabilità e anche poi per alcune disattenzioni anche gli Scarlet's hanno dovuto fare il turnover, era la prima partita di Prescintelli che a me non ha dispiaciuto ma sicuramente non è Tiff Eden, Cook, prestazione veramente da dimenticare velocemente, insomma, nel complesso franchigie italiane che si beccano un 5 e siamo anche abbastanza benevoli questa settimana dare un 5 alle franchigie italiane. Diamo invece un 6 all'Italia femminile. L'Italia femminile si prende un 6 perché alla fine ha rispettato più o meno i pronostici, brava a segnare la prima meta a inizio partita e l'ultima a fine partita, anche Di Giandomenico ha detto siano state brave all'inizio e alla fine, però questo inizio alla fine è proprio l'inizio, inizio e la fine, 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 perché in mezzo ci sono stati 80 minuti di gioco dove l'Italia ha patito veramente tanto la fisicità delle canadesi, non è riuscita a trovare i ricorsi per uscire da quella situazione, le canadesi in più va detto sono state anche molto brave al piede e nello sfruttare le situazioni meteorologiche del vento, insomma, un'Italia che nonostante tutto come ormai sappiamo che fa sempre si è battuta, si è battuta, alla fine lo scarto è stato di soli dieci punti, era esattamente tra l'altro l'handicap che gli veniva dato dai quotisti in pre-partita, insomma, alla fine la partita è andata come doveva andare, l'Italia ha fatto vedere delle cose buone, ha fatto vedere delle cose da correggere, probabilmente, probabilmente, e ai quarti di finale, adesso, non vuoi mai che se accadesse mi darò uno zero io la settimana prossima, però, insomma, dovrebbe essere i quarti di finale e quindi avanti col percorso, ragazzi, siamo tutti con voi. Sette, sette lo voglio dare a Colorno e Viadana, Colorno e Viadana o forse più Colorno che Viadana perché Colorno fa una vera e propria impresa, va a vincere nel campo dei campioni d'Italia, va a vincere a Padova e Viadana per l'inizio di campionato che ha fatto, insomma, Colorno e Viadana adesso sono prima e seconda in classifica, due squadre dopo tre giornate in Italia nel top ten che ci si aspettava meno, forse un po' di più Colorno, sicuramente Viadana è la sorpresa dell'inizio di questo top ten, li diamo un set perché probabilmente nemmeno loro vorrebbero che li dessimo di più perché insomma, piano, piano, siamo solo all'inizio, però è bello perché hanno animato il campionato, un campionato italiano che storicamente è dominato dai grandi nomi, da Padova e Rovigo, invece quest'anno si inizia con tante tante squadre, tra l'altro dietro ci sono le Fiamme Oro, insomma tante squadre che si stanno contendendo quelli che saranno poi i quattro posti per i playoff, quindi sette nel top ten a Colorno e Viadana. Otto, voglio dare otto ai nostri cugini del Rugby League, allora devo ammetterlo, devo ammetterlo, io seguo poco il Rugby League, ne so poco, ne capisco poco, domenica pomeriggio ero a casa e leggo e dico oh ma aspetta che c'era l'Italia che doveva giocare nel Rugby League, in quel momento c'era la partita, me la metto, la trovo, link, me la metto e wow, wow, uno, mi sono divertito un sacco, due, l'Italia ha giocato proprio una bella partita, adesso non mi metto nei dettagli tecnici perché appunto non è uno sport che io conosco in profondità a proposito di non essere approssimativi, però insomma mi sono proprio divertito e l'Italia ha battuto benissimo la Scozia quindi gli diamo un bel lotto anche per il bel pomeriggio che ha fatto passare a chi ha voluto avvicinarsi al Rugby League. Tra l'altro anche una partita piacevole, a volte si dice che il Rugby League è noioso invece per chi l'ha vista è stata una partita tutt'altro che noiosa. Nove, nove lo diamo a Jake Polledri, Jake Polledri, ieri richiamato da Kieran Crowley come invitato all'interno del camp della nazionale italiana. Caro Jake, non sai quanto abbiamo bisogno di te? Siamo contenti di vedere Jake Polledri. Io credo che noi abbiamo bisogno di Polledri e Polledri abbia bisogno dell'Italia. Siamo contentissimi di vedere Polledri aggiungersi al gruppo degli italiani di Kieran Crowley. Probabilmente è lì solo come invitato quindi probabilmente non giocherà nella finestra autunnale però insomma vediamo se lo recuperiamo a pieno ritmo poi per il Six Nations e poi per la Coppa del Mondo. Quindi bene forza Jake ben ritrovato nel rugby azzurro. 10 10 questa settimana allora ieri ho fatto il 15 della settimana arrivo al numero 9 e inizio a vedere e vedo che questa settimana è il migliore in Francia è stato Antoine Dupont vedo che fondamentalmente il migliore dei tre campionati dei quattro anzi perché c'è anche la Coppa del Mondo Femminile è stato Antoine Dupont lo metto come il mio 9 della settimana e mi dico aspetta perché io Dupont l'ho già messo un bel po' di volte allora vado a vedere ed è già la terza volta la terza volta che Antoine Dupont entra nel 15 della settimana all around quindi ok io prendo il migliore dei vari campionati poi li metto a confronto quindi diciamo che già anche se io mi fossi sbagliato nella mia valutazione era per tre volte il migliore in Francia in più ricordo benissimo che almeno una volta era il migliore in Francia ma non l'ho messo nel migliore all around quindi almeno quattro volte migliore in Francia quattro volte di sei quattro volte di sei per capirci praticamente quando gioca Dupont è sempre il migliore è sempre il migliore poi vai a vedere la partita che ha fatto ma vi dico solo una cosa al di là del ritmo al di là del fatto che quando c'è Dupont Tolosa gioca è un'altra Tolosa proprio ma spara un non 50-22 un 22-22 con calcio dalla base da restare da restare così così con gli occhi spalancati e allora poi ti rendi conto che sto ragazzo qui veramente è il giocatore al mondo che fa più la differenza gli do un 10 questa settimana anche se non è che questa settimana sia stata diversa dalle altre e che semplicemente fa un altro sport Antoine Dupont gioca un altro sport e probabilmente ditemi voi se siete d'accordo il miglior mediano di mischia di sempre ed entra all'età di aspetta che lo vado a vedere perché alla fine Dupont è giovane alla fine Dupont è giovane vediamo Dupont vediamo quanti anni ha Dupont giusto per capirci all'età di 25 anni all'età di 25 anni entra a pieno merito nella discussione sul GOAT sul greatest of all time sul migliore di sempre è veramente un marziano ovviamente vedremo questa Coppa del Mondo questa Coppa del Mondo se la vincesse trascinando la Francia probabilmente la discussione la chiude la chiude ma io vi dico ragazzi qui stiamo parlando veramente di Michael Jordan qui stiamo parlando di non lo so di di Maradona di Messi the greatest of all time stiamo parlando di Federer stiamo parlando di di Sergei Bucca mi viene in mente nell'atletica cioè stiamo parlando di di un giocatore di quei calibri lì nel rugby è più complicato fare le comparazioni perché sono ruoli diversi anche negli altri sport sono ruoli diversi però nel rugby in particolare cioè è difficile comprare un mediano di mischia con un pilone però ragazzi per come sposta gli equilibri Antoine Dupont per come sposta gli equilibri Antoine Dupont dieci dieci e lode ciao fischio finale iscrivetevi al canale ci vediamo domani col prossimo video un bacio a presto